Buongiorno amici di YouTube, grazie di seguire il canale e in particolare la rubrica qualche resta del giorno. Vi ricordo che potete iscrivervi e commentare liberamente i post, i commenti sono averti. Se avete letto il libro, se conoscete l'autore, dite la vostra e ne parleremo insieme. Magari se siete in disaccordo potremmo ridicare un po', però sempre meglio ridicare sulla letteratura che sull'ultimo DPCM Covid. Un piccolo chiarimento, molti mi segnalano che l'audio è asincrono rispetto al video, non è un difetto ma è un effetto voluto, un omaggio a Enrico Ghezzi e alla sua rubrica Furio Orario degli anni 90. A questo punto dovrei chiudere con un sorrisino e un saluto affabile, ma se mi metto a guardare in camera rischia di spiantarmi con l'auto. Per cui vi abbraccio tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!